Allerta arancione in sette regioni italiane da nord a sud Italia. Un'allerta che ha messo in ginocchio diverse località della provincia salernitana. Questa mattina, ma anche nel fine settimana, si fa la conta dei danni subiti a causa del forte maltempo che si è abbattuto sulla regione Campania nell'ultimo weekend. Venerdì mattina una tromba d'aria si è abbattuta sulla città di Salerno, nella zona orientale, colpendo soprattutto il quartiere di Torrione. Maltempo anche nel Cilento e Vallodigliano, dove si sono registrati problemi di frane, alberi sradicati e strutture di velte. Nella giornata di sabato, nel comune di Sacco, una frana ha interessato la strada provinciale 11. A Marina di Camerota, un grosso arbusto è caduto tra Camerota e Licusati, bloccando il transito stradale. Nel comune di Vibonati, un albero ha invaso la carreggiata sulla strada provinciale. A Roccadaspide, il tetto dell'ex scuola di Carretiello si è completamente staccato, volando al suolo. Nella città dei Templi, seri danni, hanno interessato diverse strade del comune. Due grossi alberi abbattuti dal forte vento hanno invaso la carreggiata sulla strada principale di Via della Repubblica. Nella città di Agropoli, i volontari del gruppo comunale di protezione civile ha lavoro fino a tardanotte per ripristinare il manto stradale in diverse località a causa della caduta di alberi e rami sulla strada. Bloccata l'uscita tra lo svincolo di Agropoli Nord e Pestum, dove un albero è caduto bloccando il transito. Divelti anche un pallo della linea elettrica e uno della linea telefonica. Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco solo nella provincia salernitana, dove si contano danni notevoli, ma per fortuna non risultano persone coinvolte.